Marco Marsilio ha qualche sentore sull'andamento di questa campagna elettorale invece contrario rispetto a quelli che erano stati gli umori degli ultimi giorni? No, io continuo a trovare sale strabiene di gente, grande entusiasmo, candidati molto forti che mi riferiscono, anche di trovare molto consenso e una certa facilità di aggregare e di portare la gente al voto. Perché? Perché abbiamo lavorato bene, i risultati si toccano con mano. L'Abruzzo sgangherato, marginale, derelitto di Luciano D'Alfonso che sotto le pettive spoglie di Luciano D'Amico vuole tornare a governare l'Abruzzo dopo essere scappato a Roma per fare più comodamente il senatore è un Abruzzo di cui non ha nostalgia nessuno.